ciao a tutti ben tornati queste sono le live reaction con andrea il mio coach ciao ragazzi buon divertimento addio sta porca dio ma l'ha che lì cazzo vai a chiudere prima non riusciamo due metri non riusciamo non riusciamo anche degli ugani cazzo ma porca puttana ma lì ha un tocone dai questo o che dica grande per questo che cazzo sta facendo ad incredibile un giocatore della sua caratura e soprattutto della sua esperienza secondo me non dovrebbe protestare come ha fatto e questo qua è il momento di ieri oh non sanno cosa inventarsi per non farci vincere ma che cazzo andiamo con le parti di Allegri con Pazzarini eh 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 guarda fuori gioco ma come cazzo si fa porca dio gol 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 giusto cazzo è giusto si 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 guarda dentro ruga codio gol 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 che via dai si in dieci cazzo in dieci in dieci in dieci dai cazzo che via si lascia così si perché c'è spazio che via nooo trifletta di che via trifletta di che via trifletta di che via fanculo si va a casa tutti a casa eh